Siamo già in diretta pronti per vedere il teaser. Siamo pronti. Siamo qui alla Celebration appena finito il discorso e stanno per proiettare. Siamo io e Gianca e Martino. Buonasera, buongiorno. Ma tanto questo l'obbio salterà. Salterà sicuramente. Facciamo l'inquadratura del pubblico. Lo sento più. Ci siamo. Ci siamo. Non è anche mio. Ah proprio l'hanno spento. L'hanno spento. A posto. Guardiamo noi o guardiamo il pubblico? Magno? Magno? Ma possiamo commentare? Sì, sì, dobbiamo commentare. Uno star destroi, uno star destroi. Uno star destroi, dai. Sì, 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 sì. Tornamucca. Oddio! 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 Non! Oddio! 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 non no no non no non no non the bad non non mi cucumbers non Nooo! 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 Ah! Mio Dio! Mio Dio! Oh! 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 Bello! Dio! Oh! Ancora! Again! Again! Ancora! Oh mamma mia! Oh mamma mia! Sottotitilo! Sottotitilo! Everybody! Everybody!